Io sono entrato a Ferragna alla fine del 1970 e credo di essere stato l'unico caso al mondo che ho cominciato a lavorare in ferie. Mio papà ha avuto la buona idea di morire mentre io davo la maturità industriale, sono perito chimico. Io dovevo andare a fare il servizio militare, ero in Marina, quindi al tempo erano due anni e avevo rinvio per motivi di studi fino al 31 dicembre di quell'anno. Dopo aver fatto un paio di colloqui a Ferragna in Capitaneria hanno deciso di assumermi, però mi richiedevano l'assoluta sicurezza che io non avrei fatto il servizio militare se loro ne avessero assunto. In Capitaneria mi richiedevano la sicurezza di dimostrare che io stavo lavorando per mantenere mia madre, essendo figlio unico di madre vedova, quindi sarei stato dispensato dal servizio. Quindi era un gatto che si morde la coda praticamente senza via d'uscita. Allora io avevo avuto un'iniziativa personale, avevo scritto una lettera al capo del personale, che era il Dottor Cavanna al tempo, mandandogli il mio articolo di legge che mi riguardava e dicendo che assolutamente se mi avessero assunto io garantivo, questa iniziativa personale deve essere piaciuta, per cui mi hanno assunto il 28 dicembre che la fabbrica era ferma per le vacanze di Natale e mi hanno anticipato le ferie che io non avevo ancora maturato. Per cui poi ho cominciato a lavorare il 4 gennaio del 71. Il primo impatto è stato orrendo, dirò dire, perché mi hanno messo a fare il capo turno in un reparto di produzione di prodotti chimici organici, tutti prodotti tossici e pericolosi, con colleghi dell'età che poteva avere mio padre o giù di lì. Non solo colleghi, ma io avevo il compito di dirigere, quindi di organizzare il lavoro e di controllare che fosse eseguito in modo perfetto una squadra di 15 uomini all'età di 20 anni, che se io penso che ho un figlio di 20 anni adesso, mi viene la pelle d'oca solo pensare. Non solo, ma mi hanno messo per un mese, per imparare, la mia formazione è stata quella di un mese, mi hanno messo insieme in turno ad un operaio anziano che faceva il capo turno di fatto, anche se non era nominato, doveva insegnarmi a fare il capo turno in questo mese. Alla fine del mese io sarei diventato capo turno e lui sarebbe tornato a fare l'operaio. Quindi potete immaginare come mi vedesse bene questa persona e cosa mi ha insegnato anche, quindi è stato veramente brutto. Poi il reparto era qualche cosa di… io lo paragonavo all'inferno di Dante proprio, perché era un capannone enorme, con un corridoio lunghissimo, circa 50 metri, forse anche di più, dove c'erano delle caldaie, le chiamavamo, erano reattori chimici di reazione, per buona parte interrati solo con una parte fuori terra, con dei boccaporti che si aprivano e lì si caricavano tutti i prodotti che andavano dentro, i solventi etc., c'era un agitatore che faceva queste reazioni. erano due file di caldaie disposte lungo tutto il corridoio del reparto, in mezzo alle caldaie c'era un canale rivestito in gress, quindi inattaccabile agli agenti chimici, di circa 2 metri di larghezza per forse 2 o 3 metri di profondità. In questo canale venivano scaricati, parliamo appunto degli primi anni 70, tutti i prodotti chimici di scarto, anche solventi bollenti, amine aromatiche, nitro derivati, tutte cose pericolose che andavano a finire direttamente nel Bormida. Dal reparto c'erano delle vasche di decantazione, ma erano o piene o malfunzionanti, comunque andava tutto a finire nel fiume, infatti pesci non ce n'era più da tempo. C'erano degli operai che saldavano con una fiamma ossidrica o qualcosa del genere, un tubo sul fiume e a certo punto ha preso fuoco il fiume, tanto per dire, perché ci sono solventi che non sono miscibili con l'acqua, sono più leggeri e quindi stanno in superficie, per cui una fiamma della saldatrice ha fatto sì che prendesse fuoco il fiume e lungo tutto il reparto sono rientrate le fiamme, quindi una cosa abbastanza terrorizzante. Tenete presente che io nel primo anno di lavoro, solo nel mio turno, ho visto 7 incendi in reparto, ho visto prendere fuoco 1500 litri di benzina al chiuso, sono cose che al giorno d'oggi sono proprio inimmaginabili. È sempre andata bene, poi nel 1972 credo sono arrivati gli americani, perché allora era Ferragna consociata 3M, poi è diventata 3M e non mi ricordo quando esattamente, è arrivato un ingegnere americano con un esplosimetro, uno strumento che misurava le caliche elettrostatiche e queste cose qua, andava a misurare in tutte le caldaie, tubi etc., e allora hanno fatto una variazione importante, perché noi fino a quel momento spostavamo i liquidi, quindi i solventi bollenti e tutte queste cose qua attraverso le tubazioni d'acciaio comprimendo con aria, che è una cosa da kamikaze, l'aria aiuta alla combustione, questo signore americano ci ha fatto mettere da quel momento invece dell'aria l'azoto, essendo un gas inerte non c'era più problema, purtroppo anni dopo si è verificato l'incidente mortale, nonostante questo, infatti è morto un ragazzo padre di due figli, ma è stata una cosa, una disgrazia veramente proprio. Gli operai, alcuni erano persone stupende, bravissime, però direi almeno il 60% cercavano di fare meno che potevano, anche perché la Val Bormida è una zona tendenzialmente rurale, quindi molti di loro avevano il campo, lavoravano la terra di giorno e poi venivano magari a fare la notte in stabilimento, per cui erano stanchi, io andavo a svegliarli a tutte le passi, si rintanavano negli angoli del reparto e dormivano. È una posizione terribile perché gli operai devono essere controllati e il lavoro deve rendere, perché il capoturno deve poi rispondere al caporeparto, il quale tende a pressarlo, per cui il capoturno è veramente una posizione orribile perché è tra l'incudine e il martello proprio, quindi un lavoro molto stressante, di grandissima responsabilità anche proprio per la sicurezza e quindi è un lavoro veramente brutto. non è che gli operai ti odiano, almeno a me non credo di essere mai stato odiato dagli operai, poi tra l'altro il primo anno, sapete a quel tempo il capo ti faceva una specie di pagella che serviva, proprio ti diceva vita, morte e miracoli con anche delle opinioni personali su di te, quindi è una cosa molto pesante anche. Questa cosa serviva o per le punizioni o per gli aumenti di stipendio, lo usavano in questo modo. Il primo anno ho fatto il bravo bambino e ho avuto degli ottimi giudizi su questa pagella, nel secondo anno mi sono iscritto al sindacato, nel terzo anno ho cominciato a fare attività sindacale seriamente e mi sono ritrovato a fare il picchetto davanti ai cancelli durante lo sciopero, agli stessi operai del mio turno che sarebbero entrati a lavorare senza di me e al tempo ero già impiegato di seconda categoria ed ero l'unico che faceva il picchetto davanti al cancello, quindi ero visto anche molto male dalla direzione, tant'è vero che dopo tre anni di lavoro il giudizio su questa famosa pagella è diventato negativo, magicamente e io per punizione sono stato prima minacciato di licenziamento varie volte e poi sono stato spostato in un laboratorio di process, di ricerca diciamo così. Ed è stata la mia fortuna perché lì ho incontrato il Dottor Ticinetto che era, è ancora vivo spero, una persona veramente stupenda che alla prima pagella che mi ha fatto mi ha riabilitato completamente, ha dato contro la pagella fatta dal capo precedente. Durante la prima fase del capoturno facevo i turni e purtroppo facevamo i 3-1 cosiddetti che sono una cosa orrenda anche questa, non so se sapete com'è, allora si fa ad esempio 3 giorni del turno dalle 6 alle 2, un giorno di riposo, 3 giorni dalle 2 alle 10, un giorno di riposo, 3 giorni di notte, un giorno di riposo, quindi ogni 3 giorni si cambia vita, si cambiano tutti gli orari del mangiare, del dormire e sempre intercalati da un giorno, intervallati da un giorno di riposo, sempre, che sia Natale, Capodanno, Sabati, Domeniche, non esiste più niente, quindi a 20 anni questa cosa ti distrugge, distrugge le amicizie, le possibilità di sbagliare, tutto. Dopo quando sono andato al process invece il turno era normale, l'orario normale, quindi dalle 8 alle 17, con l'intervallo per il pranzo, il lavoro era molto creativo, perché consisteva nel fare le reazioni in piccoli contenitori di vetro, che chiamavamo palloni, palloncini di vetro, il più piccolo era da 250 cc fino ai 2 o 3 litri massimo, fare le reazioni dentro questi palloncini, vedere come si comportavano i prodotti, i solventi, tutte queste cose qua e poi portare questa esperienza, che era minimale chiaramente, portarla dove producevamo magari 50-100 g di un prodotto, portarla poi nel reparto di produzione su 100 kg, 200 kg, 1000 kg, una cosa di questo tipo, quindi passare dalla piccola scala alla grande scala non è sempre una cosa automatica, si crea tutta una serie di problemi che bisogna risolvere, affrontare, ritoccare, rivedere, quindi era un lavoro molto vicino alla ricerca, perché noi cercavamo di cambiare un pochino i prodotti della cosiddetta concorrenza, che in realtà eravamo noi la concorrenza, perché Kodak, Fuji, Agfa, tutte le grandi marche erano state le prime a tirar fuori certi prodotti, la nostra ricerca, almeno nel mio ambito, consisteva in quel periodo nel comprare i rullini della concorrenza, cosa facevano? Piantavano un chiodo sulla coda del rullino, su un banco di legno, poi lo tiravano tutto, lo fermavano dall'altra parte e con una lametta grattavano l'emulsione fotografica, poi la scioglievano, l'analizzavano, guardavano cosa c'era dentro, a quel punto lì intervenivamo noi, quando sapevamo la formula intervenivamo per aggiungere o togliere, ma di solito aggiungere, qualche piccola molecola, qualche piccolo gruppo chimico che permettesse di avere più o meno lo stesso prodotto, ma di superare le royalties che richiedevano le aziende per utilizzare i loro prodotti, però chiaramente essendoci arrivate per prime, avevano scelto già il prodotto che funzionava meglio e che costava meno, quindi noi eravamo sempre all'inseguimento di un qualche cosa che era meno buono del precedente sicuramente. Un altro tipo di lavoro, ad esempio io l'ho fatto per anni, era quello di, un esempio molto banale, ad esempio nelle reazioni sostituire l'alcol etilico con l'alcol metilico, la differenza fra di loro è che l'alcol metilico bolle a un punto più basso, circa 14 gradi, 64 invece che 78, perché questa sostituzione? Perché l'alcol metilico costa 5 volte di meno dell'alcol etilico, quindi portandolo su grande scala si risparmiano dei miliardi, solo per questa semplice operazione, però bisogna riuscire a far funzionare l'alcol metilico al posto dell'etilico, il punto di ebollizione più basso porta dei problemi diversi, quindi le reazioni vengono meno bene oppure ci vuole più tempo, quindi anche lì era tutta una fase di studio atta a risolvere questi problemi. Il lavoro nel laboratorio chimico, dove sono stato poi per quasi 20 anni, anzi 20 anni direi, era molto creativo perché era basato su esperimenti, quindi era molto bello, è stato di grande soddisfazione per me, era formato dal mio capo diretto, che era un laureato, io sono un diplomato perito chimico e da un aiuto che era il signor Giordano che poi ne parlerà e basta praticamente, la nostra cellula era questa, poi ce n'erano altre, ma in tutto il processo saremmo stati una quindicina di persone circa e lì come dicevamo noi producevamo, facevamo degli esperimenti prodotti, per portarli in piccola scala, per portarli poi in grande scala nei reparti di produzione chimica che allora erano il T1, il T2, lo Z e il V ancora, il più vecchio di tutti, dove si facevano questi prodotti altamente tossici, altamente pericolosi, che però poi si traducevano in copulanti, ausiliari e sensibilizzatori, cioè i prodotti principali che andavano a finire nell'emulsione della pellicola colori ed erano proprio i responsabili del colore, la fabbrica era una città enorme con tutti i servizi, dalla mensa che era esterna, c'era il circolo ricreativo, c'era la centrale che produceva l'energia, c'era l'energia del caldo, quella del freddo, c'era tutto praticamente, reparti di confezionamento dove lavoravano migliaia di persone, la maggior parte donne come si diceva e poi c'era l'estrusore, il famoso estrusore che era, l'ho solo sentito dire perché non l'ho mai neanche visto, però dicevano che era una macchina capace di stendere contemporaneamente sullo stesso strato di supporto fino a 14 strati di emulsione di prodotti uno sopra l'altro, in un colpo solo, quindi era una tecnologia di una raffinatezza incredibile, anche ad esempio nel laboratorio analisi che seguiva i nostri esperimenti, perché noi facevamo un prodotto, poi dovevamo capire cosa avevamo fatto e lo davamo all'analisi, dove c'era il mio carissimo amico Ingino Pizzetti che era un perito chimico d'altri tempi, una persona straordinaria e loro ci dicevano se il prodotto che avevamo fatto era valido o meno, per cui poi allora lo portavamo nel reparto, lì loro ad esempio avevano un microscopio elettronico, avevano degli strumenti di una sofisticatezza veramente incredibile, tipo gli spettrofotometri, i gas, adesso non mi ricordo, sono passati un po' di anni, non mi ricordo neanche più, perché veramente lì ho chiuso, è stata un'altra vita proprio. Lo stabilimento di Ferragna era sì un'eccellenza, assolutamente, perché era comunque l'unico stabilimento in Italia a produrre materiali fotosensibili, quindi pellicole negative, diapositive, carta anche e cinema fino a un certo punto e lastre radiografiche, quindi tra l'altro a Ferragna era uscito un brevetto, adesso non ricordo bene, ma che riusciva a dare meno radiazioni durante l'esposizione ai raggi X per le lastre. Sì, come dicevamo prima era una città praticamente e come città purtroppo era veramente chiusa in sé, era una bolla, perché lì anche i rapporti fra le persone, a mio giudizio, erano completamente falsati, perché c'era il capo, ad esempio io mi ricordo i primissimi anni quando facevo il capo turno, veniva al caporeparto, in reparto, mi agguantava i capelli, che io portavo i capelli lunghi allora, avevo 18 anni e al 68, quindi era un cappellone, mi agguantava i capelli dietro nel collo e mi diceva, mi scrollava e mi diceva, eh, bisogna che ce li tagliamo un po' questi capelli, al giorno d'oggi una cosa così, come minimo si beccherebbe un pugno nella faccia, invece allora si stava zitti, quindi il capo era il padrone, addirittura faceva dei decaloghi, scriveva punto uno, dovete fare così, punto due, è una cosa abbastanza molto, molto poco democratica se vogliamo. Io ho fatto parte dell'esecutivo del Consiglio di Fabrica per circa 10 anni e mi sono, però sono sempre stato molto poco politico, più tecnico, per cui mi sono occupato della gestione della quella che chiamavamo la commissione ambiente, dell'ambiente di lavoro, per cui quando c'era qualche incidente, qualche infortunio, qualche situazione di pericolo, gli operai lo sapevano e ci chiamavano e noi insieme a un rappresentante dell'azienda andavamo a vedere, a fare un sopralluogo sul posto e cercavamo, discutendo con l'azienda, di fargli cambiare le condizioni e di riuscire a sistemare bene la cosa. Questa era un po' la mia mansione principale. Poi erano gli anni, c'era l'autunno caldo, non so se era appena finito o se era ancora in voga, però gli anni 70, 71, 72, 73, scioperi ce ne sono stati parecchi con picchetti davanti ai cancelli, con scontri, insomma quindi un clima molto molto caldo. Una volta abbiamo fatto persino sciopero alla mensa, perché avevamo una mensa che ci forniva del cibo veramente scadente e quindi abbiamo fatto, anche lì picchettato, perché ovviamente la gente voleva andare a mangiare, abbiamo cercato di impedire alle persone di andare a mangiare per un giorno ad esempio. Nella commissione ambiente, come dicevamo prima, ci occupavamo prevalentemente della salute dei lavoratori, lo slogan era la salute non si paga in quei tempi, anzi perché c'erano molti operai che volevano andare a lavorare nei reparti chimici, dove ho cominciato la mia storia, perché in questi reparti venivano pagate le penosità del lavoro per 8 ore al giorno, ad esempio nel caso del reparto T1, quindi veniva compensata la salute con la monetizzazione praticamente, quindi noi andavamo contro questo genere di logica, non ci occupavamo molto dell'ambiente esterno, perché ad esempio inquinavamo tranquillamente il fiume Bormida con gli scarichi e addirittura c'era un giro losco, del quale io l'ho getto così ma non ho nessuna prova, quindi potrei anche ritrattare questa cosa, c'era un giro losco tra i reparti chimici e un tipo che faceva un servizio di trasporto con dei camion per smaltire le melme di lavorazione dei prodotti chimici che venivano stoccate in bidoni da 200 litri e portate via e non si sa dove e non si sa cosa ne facessero. Io venendo da Savona dovevo raggiungere lo stabilimento con vari mezzi, l'ho raggiunto nei vari anni, inizialmente con il pullman, poi con il treno gli ultimi anni in macchina, con il pullman era specialmente quando facevo i turni, era veramente terribile, mi ricordo quegli anni lì nevicava in un modo esagerato, proprio la neve a Ferragna arrivava a ottobre e fino a marzo, aprile non se ne andava, c'erano dei mucchi enormi, poi lo spazzaneve la mucchiava, per cui questa neve restava tantissimo, faceva un freddo terribile, le strade gelavano, non si vedevano più i cristalli di ghiaccio nelle strade, pericolosissime tra l'altro e io ricordo, me lo sono scritto questa cosa perché ho detto questa cosa qui la dirò ai miei figli e ai miei nipoti, perché è proprio la sofferenza di quegli anni, io ricordo una mattina alle 4 e mezza che io abitavo a Savona in Valloria, quindi vicino all'ospedale San Paolo, dovevo andare in piazza Diaz in città e non c'erano mezzi a quell'ora, quindi io mi ricordo una mattina alle 4 e mezza con l'ombrello sotto la neve perché nevicava a Savona, che adesso è mai più successa una cosa così, con gli stivali perché non avevo scarpe adatte, quindi con i piedi congelati, gli stivali di gomma che andavo a piedi con l'ombrello sotto la neve per arrivare in piazza Diaz a prendere il pulma delle 5 del mattino che mi avrebbe portato a Ferragna per entrare in turno alle 6, io quando tornavo a casa dopo il turno che riusciva a arrivare da mia mamma che mi preparava da mangiare, ci arrivavo alle 15, 15.30 praticamente, mangiavo e sbattevo una testata sul tavolo e mi addormentavo, tanto per dire, avevo 20 anni, poi altri anni invece si prendeva per un periodo, ho preso il treno ad esempio e il treno ti lasciava in fondo a un viale di 2 km per arrivare allo stabilimento che ci facevamo, c'era un pulma ma di solito si riempiva subito con i primi e poi ciccia e quindi se lo faceva praticamente a piedi, quando gelava c'era i marciapiedi che erano delle lastre di ghiaccio, camminavamo tutti vicini, quando uno scivolava che partiva si attaccava un altro, un altro, cadevamo a decine proprio, tutti per terra, era anche divertente chiaramente ai primi anni, poi dopo un po' meno e poi vabbè con la macchina, io ricordo che avevo la 600, quando facevo i turni però ai primi anni, andavo con la 600, gli sgonfiavo le gomme per andare meglio sulla neve, gli sgonfiavo un po' le gomme, andavo sulla neve, poi facevo le derrapate col freno a mano, era divertente andare a Ferragna, il posteggio era una cosa pazzesca perché c'erano migliaia di macchine e tante volte vedevi le persone che girava, che usciva primo ad esempio dallo stabilimento e poi girava per delle ore per trovare la sua macchina perché non la trovava, io ero uno di quelli che mi perdevo la macchina. La popolazione della Val Bormida che lavorava in fabbrica era gente molto alla buona, ho dei ricordi, ho avuto dei rapporti bellissimi con molte persone di cuore, altri erano molto invidiosi, molto ignoranti, c'era un po' di tutto diciamo, era molto bello nel turno perché specialmente nel turno di notte poi si mangiava tutti assieme, quindi andavo anch'io che anche se ero il capo andavo insieme a loro, si mangiava e si beveva perché lì loro, io ricordo che molti operai si portavano dietro il famoso pinton, lo chiamavano, un bottiglione da due litri di barbera e nel turno quello andava via tutto, una persona se lo beveva due litri, c'era un operario che si mangiava anche 12 uova, mi ricordo, mangiava le cipolle come fossero mele, mi parlo di più di 30 anni fa, adesso non lo so se lo farebbero ancora. Grazie 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 Grazie